africa torneo di caccia rimasti in finale un francese un americano e un napoletano la commissione da sopra al palco allora ci vediamo a luna chi porta più animali quello vince il torneo partono luna meno un 10 arriva il francese la commissione lo guarda e fa tu cosa hai portato io sono preso due cinchiali e un lepre bravo mettiti a posto arriva l'americano dopo pochi minuti tu cosa hai preso io ho preso due corneti un maiale bravo mettiti arriva il napoletano e dice allora tu cosa hai preso io ho preso 10 non sbalavano ma che so se non sbalavano e che non sace certe cose nere che i cosi donanzi facevano non sbalavano non sbalavano e che non sbalavano